come mi stanno questi occhiali ragazzi? diciamo che forse il design non è proprio il massimo poi lo vediamo meglio però non sono un paio di occhiali normali sono i Bose frames che sto provando in questi giorni sono un prodotto particolare perché di fatto integrano all'interno delle bacchette poi lo vediamo meglio come detto degli altoparlanti e la novità è che suonano bene suonano decisamente bene mi aspettavo un prodotto scadente nonostante sia un prodotto marchiato Bose non mi aspettavo un adio particolare non usano una tecnologia a conduzione ossa usano dei normali come dire altoparlanti e oltre a suonare bene li trovo molto utili in alcuni casi io diciamo che ho una faccia un pochettino come dire stretta quindi in generale non sto proprio benissimo con gli occhiali grossi questa è una via di mezzo però sono l'ideale ad esempio quando come me in questo momento state portando in giro una bestia una peste e mentre come dire camminate tranquillamente riuscite a avere l'orecchio libero sentire i suoni circostanti molto importante in generale come anche in questo caso quando parlate in giro il distruttore di mondi e riuscite volete comunque avere un sottofondo musicale vabbè adesso torno in studio e vi faccio vedere meglio come sono fatti questi Bose frames magari a qualcuno di voi piaceranno cedo andiamo dai andiamo andiamo bello 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 perché un paio di occhiali Bose è conosciuta per i suoi prodotti audio le sue cuffie audio e roccolari di buona qualità per la risposta più semplice differenziazione il mercato è sempre più agguerrito quindi un'azienda come Bose sta come dire cercando altri mercati in cui magari può fare la differenza però non perde il focus e questa è una cosa intelligente su quello che sa fare cioè come detto prima dell'audio di buona qualità esistono altre marche che hanno cercato di fare prodotti di questo genere ma sono più o meno tutti pessimi perché come dicevo prima la maggior parte utilizzano la tecnologia conduzione ossea cioè fanno vibrare dei trasduttori che a contatto con le tempie o l'osso del cranio altre parti del corpo comunque riescono a trasferire il suono in quel caso il suono è sempre pessimo perché è praticamente è come se ascoltaste del suono prevenire da un paio di cuffie di media qualità ma senza mettere nell'orecchio praticamente a distanza quindi solamente alti non c'è corposità non c'è nessun tipo di qualità da quel suono in questo caso Bose come detto ha inserito all'interno delle aste degli occhiali dei normali altoparlanti ovviamente molto piccoli miniaturizzati ma quello su cui ha lavorato è la forma stessa delle delle aste inserendo anche delle varie feritoie da cui esce appunto l'audio la sensazione che una volta che si indossano gli occhiali è quello proprio di avere la musica con una scena molto centrale raggiunge bene l'orecchio e la cosa interessante è che chi sta all'esterno non vi sente o quantomeno fin tanto che tenete un volume più o meno al 50 per cento e la persona è a non meno di 30 centimetri di distanza tranquillamente proprio non vi sentirà alzando il volume più o meno la sensazione è quello di un paio di cuffie aperte ovviamente nel caso di cuffie aperte il suono che entrerà nelle vostre lecchie sarà molto più alto ma quello che si sentirà all'esterno come dire è comparabile integrano ovviamente il bluetooth per comunicare con lo smartphone il singolo tasto che è qui sotto l'antenna l'asta destra serve per accenderle per spegnerle per gestire la riproduzione e tenendo anche schiacciato per alcuni secondi potete attivare l'assistente vocale perché sì c'è anche un microfono microfono che va benissimo per inviare dei comandi vocali si può fare anche delle chiamate telefoniche la scena è un po particolare a scuse mi arriva una chiamata telefonica si pronto ecco più o meno questo è quello che succede e le persone dicono ma mi stai perdendo in giro a parte questa come dire è scena un po colorita per quanto riguarda la qualità audio delle chiamate non sono il top vanno bene per la musica vanno bene per ascoltare chi ci chiama però le varie chiamate che ho fatto mi è sempre stato detto ti sento male hai la voce robotica si capisco quello che dici però non è proprio il massimo la batteria dura tre ore all'incirca tre ore e mezza con il volume al 50 per cento non è un risultato che mi sento definire buono non è un buon risultato e questo limita molto la tipologia di acquirente per questi frames ad esempio come vi ho fatto vedere io porto a passeggio il cane un'oretta sono perfetti perché comunque voglio dire mancano ancora diverse ore di autonomia posso portarlo anche in più round durante la giornata senza doverli ricaricare ricarica ovviamente viene effettuata tramite un cavo proprietario presente nella confezione che ha questo connettore a sfioramento magnetico se però appunto voi volete utilizzarli per più di tre ore magari non solo per il tragitto casa lavoro o appunto per attività come quelle che vi ho mostrato allora non sono sufficienti certo potete portarvi con voi una batteria esterna con il cavetto ricaricarne nei tempi morti ma non è proprio massimo è proprio per questo motivo secondo me Bose si è giocato l'opportunità di trasformare la custodia anche in una batteria esterna per appunto ricaricare i frames una volta riposte all'interno della custodia probabilmente si sarebbe dovuto spostare il circuito di carica o far qualcosa insomma per permettere la connessione magari una ricarica a induzione magnetica forse anche fin troppo però si è giocato un'opportunità perché in quel caso se la custodia fosse stata in grado di ricaricare la batteria batteria di cui non so la dimensione ma lo spazio è quello che è quindi non è molto probabilmente si sarebbe potuto aumentare l'autonomia di questi frames non di due ma anche di tre quattro cinque volte sono quasi certo che semmai farà dei frames 2.0 però questa sarà una caratteristica che vedremo inclusa per quanto riguarda il design lo vedete da voi questo è il modello rondo io direi rondo però non c'è l'accento sulla o quindi chiamatelo un po come volete e poi ci sono gli alto che praticamente sono lo stesso tipo di occhiale però quello squadrato questo è quello più piccolo mentre quello alto quello squadrato forse anche un pochettino più classico è abbastanza grande avete visto che sulla mia faccia come dire ci stanno e non ci stanno però io ho una faccia che non è che stia bene con questi occhiali abbastanza grossi e ingombranti come dire sto meglio con quelli che mi avvolgono un pochettino però sappiamo che è molto soggettivo posso dire che questi sono più piccoli rispetto a quelli squadrati quindi se avete una faccia grande sarete bene probabilmente con entrambi in caso contrario è meglio puntare su questi cos'altro dire di questi frames ribadisco il fatto che la qualità audio mi ha decisamente sorpreso come possiamo compararla a un paio di auricolari classici non i near quelli classici di buona qualità più o meno è quella la qualità che percepirete che sì probabilmente per qualcuno non sarà sufficiente se siete amanti della musica non sono questi gli auricolari occhiali che fanno per voi ma di certo mi aspettavo molto ma molto 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 peggio invece dopo tutto la qualità è discretamente buona chiamiamola così e quando le utilizzo quando sono in giro non sento la necessità di dover mettermi un auricolare di qualità superiore e in più c'è il fattore che ovviamente le vostre orecchie non sono coperte quindi riuscite a sentire i rumori esterni come appunto già detto piccolo altro negatività con l'autonomia e anche la certificazione sono certificati solamente ipx2 cioè il fatto che qualche spruzzo possono prenderlo ma non sono fatti per andare a correre a correre in onda di sudore usarli sotto la pioggia se voi utilizzate gli occhiali da solo sotto la pioggia comunque una certificazione un po' superiore sarebbe stata migliore soprattutto perché comunque d'estate magari se vi fate anche una passeggiata lunga sotto il sole non c'è bisogno di correre per sudare abbastanza per quanto riguarda invece la qualità delle lenti sono abbastanza scure ovviamente protezione uv ma non troppo non sono specchiati l'occhio anche se non si vede magari dalla videocamera ma dal vivo si vede l'occhio di chi le indossa sono intercambiabili ci sono anche delle tonalità sul blu e sul rosso arriviamo al prezzo 220 euro secondo voi è tanto e poco secondo me è adeguato considerando la marca Bose mi aspettavo anche di più quindi tutto sommato comunque la qualità è decente le lenti sono decenti e la sorpresa della buona qualità della musica come dire fa digerire meglio il costo sono certo che parte di questi 220 euro sono legati unicamente al marchio e alla unicità del prodotto però dopo tutto come dire rimarrete soddisfatti Bose frames modello rotondo modello quadrato a me piacciono non è un prodotto per tutti attenzione l'autonomia attenzione la certificazione se per l'impremeabilità se siete interessati vi consiglio se avete un negozio Bose nelle vicinanze potete raggiungerlo se foste interessati di andare a provarli prima proprio per la questione del come mi stanno in faccia meglio che li proviate e per me è un po il gadget dell'estate questo non super economico neanche super costoso un prodotto particolare che se magari fate una certa vita e vi trovate in certe condizioni può tornarvi utile io spero che vi sia piaciuto questo video anche un po diverso dal solito vorrò farne qualcuno di più parlando di prodotti ma raccontandoveli in questa maniera magari non sempre quando lo studio magari anche un pochettino più in giro appunto come ho fatto all'inizio del video perché appunto vorrei fare dei video un pochettino più diversi dal solito sempre chiaramente con uno scopo non dico super didattico ma vi racconto un prodotto insomma fatemi sapere cosa ne pensate io amici vi ringrazio per avermi seguito vi raccomando lasciate un mi piace come vedete il video iscrivetevi al canale e vi lascio anche i miei social vi aspetto anche lì noi ci vediamo in un altro video ciao